Blindo è un coating 100% fisico, contiene un'alta percentuale di nanoresine dure di ultima generazione, capaci di ricreare un nuovo strato di clear coat sulla superficie. Blindo è riparabile e riducidabile anche a 30.000 km dalla sua applicazione. Si tratta di una resina dura ma allo stesso tempo flessibile, con una grande capacità di assorbimento agli urti e termodinamica. Blindo è un base coat di categoria 9H, stratificabile, che risponde alle esigenze dei professionisti, che chiedono alte prestazioni in termini di protezione, unite a un'elevata velocità di curing, anche in presenza di ambienti freddi con temperatura di sotto dei 15 gradi. Blindo si distingue da tutti i coating in commercio per il suo tempo di chiusura, che avviene a basse temperature in pochi minuti senza l'ausilio di lampade infrarossi. Blindo è un coating che ha bisogno di un top coat come il nostro HPC, per elevare le sue performance in termini di safe cleaning e protezione contro agenti aggressivi chimici, aumentandone la longevità, la capacità protettiva ed idrofobica. Per applicare Blindo abbiamo bisogno di un pad applicatore e di un panno in microsuede. La superficie deve essere perfettamente pulita e sgrassata. Utilizziamo Veritas diluito 1 a 5 per eliminare eventuali residui della precedente lucidatura. Applicheremo Blindo effettuando dei movimenti lineari, dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra, evitando di incrociare nuovamente. In base alla percentuale di umidità e alla temperatura nella zona di lavoro, lasciare in posa a Blindo da 1 a 3 minuti o fino alla comparsa di striature color arcobaleno. È possibile effettuare la rimozione del prodotto in eccesso con un panno in microfibra per lo corto umido, effettuando dei movimenti circolari. A lavoro ultimato effettueremo un check con la lampada. Nelle successive 24 ore dall'applicazione evitare il contatto con acqua ed umidità. Blindo non contiene sostanze falsche.